Presentiamo oggi i dati sulle cooperative torinesi per il primo semestre 2022. I segnali sono positivi da questa indagine. Ovviamente parliamo del primo semestre, quindi le cooperative torinesi, il 64% hanno dichiarato di essere ottimisti. I dati dicono che c'è stata anche una ripresa del fatturato e dell'occupazione. Sicuramente però il sopraggiungere delle grandi problematiche legate per esempio al tema dell'energia non sono rilevate ancora da questa analisi. Quindi l'indagine che presentiamo oggi ha dei dati positivi, ma ovviamente ci sono sicuramente delle criticità che stanno emergendo, che mettono in difficoltà tutto il mondo delle cooperative del nostro territorio, che occupano più di 40 mila addetti, sono più di 1200 cooperative sul nostro territorio e per oltre 2 miliardi di fatturato. Quindi è un settore molto importante del nostro territorio che quindi vede anche una grande partecipazione della componente femminile.